I criteri sono chiari, essere residenti a Padova in caso di persone e famiglie, avere la sede operativa in città per commercianti e aziende. Nel comune sul piatto 200.000 euro per l'acquisto da parte dei cittadini di bicicletta pedalata assistita. Per le city bike massimo 3 per famiglia 250 euro, per le cargo bike destinate a commercianti e imprese la cifra sale a 600 euro. L'autonomia delle biciclette è cresciuta moltissimo, abbiamo preso ad esempio varie città in cui ha avuto grosso successo, abbiamo messo una certa cifra che siamo anche disponibili ad aumentare se questo ha un successo come riteniamo. Si tratta di fondi che derivano dai dividendi di ERA. Una parte sarà destinata al sociale, una alla mobilità sostenibile. Le domande si potranno presentare dal 7 ottobre fino al 20 dicembre presso lo sportello URP di Palazzo Moroni. Bici acquistate in negozi made in Padova. Deve essere acquistata a Padova, deve essere acquistato tramite un venditore che ha un negozio e una vetrina a Padova. Una scelta che arriva ridosso del via elezione autunnale di contrasto all'inquinamento dell'aria. In una città come Padova adatta a questo mezzo. Le biciclette a pedalata assistita sono uno strumento che oggi dal punto di vista tecnologico è maturo e abbiamo pensato che dare un aiuto di 250 euro a coloro che vogliono acquistare il mezzo sia concreto e dia delle risposte efficaci. Stiamo cercando in tutti i modi di aiutare sia gli spostamenti delle persone sia anche l'operatività delle imprese con le cargo bike che per la zona centrale possono essere una soluzione interessante per le piccole consegne. Il buon esempio parte già da Palazzo. Abbiamo un po' rimesso in moto i mezzi che avevamo e anche investito e quindi io per prima vedo e sono contenta di come anche i nostri dipendenti, una riunione di oggi ma in realtà da tutto l'anno, da mesi, si spostano tra i settori in bicicletta o con la bicicletta normale o con quelle a pedalata assistita.